Ciao a tutti e benvenuti al primo episodio della versione di Barley. Io sono Roberto e vi parlerò di film, serie e documentari disponibili o in uscita sulle piattaforme di streaming più popolari. E vi parlerò anche di birra. Non di birra qualsiasi, ma di birra di qualità. Cosa hanno in comune il mondo dello streaming e quello della buona birra? Diverse cose. Una birra può raccontare una grande storia e può abbinarsi perfettamente al film che avete scelto di guardare stasera. Esistono film e serie di cui forse non avete mai sentito parlare e vi assicuro che esistono decine di birre di cui non avete mai sentito parlare. Ma la cosa che accomuna di più questi due mondi è la varietà. Ci vuole una buona dose di curiosità per non fermarsi alla prima. Stiamo per partire, quindi iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per non perdervi i prossimi episodi. Oggi vi parlerò di un film in uscita su Netflix il 16 marzo che ho visto in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Si intitola Era Ora, è prodotto da Bim e Palomar, è scritto da Alessandro Ronadio e Renato Sagno ed è diretto dallo stesso Alessandro Ronadio. Il protagonista del film è Edoardo Leo che interpreta il personaggio di Dante. Dante è vittima di una strana maledizione. A partire dal suo quarantesimo compleanno, mentre per lui temporalmente passa un solo giorno, per il mondo intorno a lui passa un intero anno. E questo va avanti per giorni, quindi per anni, costringendolo ad affrontare una serie di situazioni di cui però lui non è pienamente cosciente. Vive le conseguenze di una serie di azioni che lui ha svolto in un tempo che però non ha vissuto. Le subisce indifferita. Una cosa che ho apprezzato molto di questo personaggio è che lui queste situazioni non le subisce con la disperazione, ma le subisce razionalmente. È come se lui si rendesse conto che tutto quello che gli sta succedendo in qualche modo sia plausibile. Fa parte del suo modo di essere, di come lui concepisce il lavoro, la coppia, il rapporto con suo padre, con i suoi amici. E per quanto sia forte lo shock di ritrovarsi ogni giorno di fronte ad una versione di se stesso ogni volta diversa, lui capisce piano piano che quella specifica cosa poteva succedere, sarebbe potuta succedere anche in un contesto temporale normale. E questo mi ha fatto molto riflettere. Perché oggi il concetto di tempo è estremamente dilatato. è talmente dilatato che ognuno di noi crede di avere tempo di fare tutto, ma poi in realtà ci ritroviamo a fare le cose sempre all'ultimo momento. Rimandiamo e rimandiamo fino all'inverosimile e tendiamo a rimandare anche tutto ciò che riguarda il mondo degli affetti. E così rischiamo di trovarci all'improvviso in un rapporto che non funziona più o in una dinamica familiare in crisi semplicemente perché abbiamo rimandato una telefonata, un discorso importante o un gesto d'affetto. Al centro del film, al centro di Era Ora, c'è una storia di amore. La storia di amore tra Dante e Alice che nasce a causa di un bacio dato per sbaglio durante una festa di Capodanno e diventa subito l'archetipo della storia romantica perfetta. Ma solo all'apparenza, perché con il passare dei giorni e quindi degli anni, una volta capito il gioco narrativo del film, ci rendiamo conto che Alice non è soddisfatta di questa sua relazione, anzi subisce il modo di fare di Dante che la trascura, che impiega il suo tempo in altre cose che non sono le cose che desidera lei, perché lei desidera l'attenzione del suo uomo, vuole una famiglia e vuole portare avanti un progetto insieme. Il film utilizza il pretesto del paradosso temporale in un modo molto intelligente, perché nonostante la situazione sia fantastica, noi spettatori riusciamo a empatizzare molto con questi personaggi, perché quello che succede a loro è lo stesso che succede a noi tutti i giorni. Cioè perdiamo il filo del tempo, perdiamo il filo anche delle cose importanti, perché siamo letteralmente assaliti da una serie di distrazioni che ci fanno vivere questi salti temporali a cui poi dobbiamo necessariamente porre rimedio. Eraora non è un film sul viaggio nel tempo, ma è un film sull'utilizzo del tempo, perché Dante, nel proseguo del film, si rende conto che non deve pensare al tempo che ha perso, ma deve sfruttare al meglio il tempo che ha. E giorno dopo giorno sfrutta questo tempo per creare un rapporto con sua figlia, figlia che tra l'altro si ritrova nata all'improvviso, nel senso si perde anche tutto il periodo della gravidanza e la nascita stessa, e soprattutto per dare un senso al rapporto con suo padre, che è un personaggio molto conflittuale e al quale lui però capisce di assomigliare, forse in negativo, anche troppo. Per iniziare bene questo podcast, essendo il primo episodio, volevo appunto iniziare con un ospite, un ospite speciale. Questo ospite è il regista di Eraora, Alessandro Ronadio. Mi cuffio un attimo. Eccomi qua. Ciao Alessandro. Ciao Roberto, come stai? Sto bene, grazie. Grazie mille di partecipare. Questo è proprio il primo episodio, quindi partiamo con te. Iniziamo così, va bene. Ok, questo è un podcast che cerca di abbinare il mondo dello streaming a quello della birra di qualità, perché noi crediamo appunto che ci voglia curiosità nella ricerca delle cose di valore, delle cose buone, delle cose belle. Io finora ho parlato del tuo film, che ho visto in anteprima, grazie al tuo invito alla Festa del Cinema di Roma, e ne ho parlato bene, ovviamente. Meno male. Meno male. E guarda, volevo farti ora delle semplici domande, e poi ti saluto. Ok? Ok, va bene. Allora, la prima domanda è questa. Il protagonista del tuo film è ossessionato, diciamo, dal successo sul lavoro. Ok? Io ricordo che c'è una battuta del suo personaggio in cui dice se mi danno questa promozione io il tempo me lo compro. Io in questo atteggiamento ci ho visto un malessere molto diffuso, tra virgolette, nel maschio moderno, no? Un po' questa sindrome del cacciatore in cui crediamo che tutti dipendano da noi. e quindi mi chiedo è difficile raccontare l'uomo moderno in un film italiano, tra l'altro, in cui comunque ti devi muovere all'interno di determinati archetipi? Ma, guarda, no, direi di no. Nel senso, io ho... Questo è il mio quarto film e tutti e quattro i film parlano di maschi e dell'uomo e di come l'uomo può entrare in crisi, può avere difficoltà nel suo rapporto con la società, con l'altro, nel rapporto di coppia, nel rapporto col mondo lavorativo, eccetera, eccetera. Io ho sempre amato i personaggi che non camminano fieri ma che inciampano. e nello zoppicare ho sempre trovato nei miei personaggi qualche... un elemento di fascino. In particolare, in Era Ora, che probabilmente anche il protagonista, credo, più adulto, sicuramente, tra i quattro film che ho fatto, l'idea era proprio anche quella di raccontare quanto è difficile essere uomo adesso perché è giusto e se ne parla tanto di quanto è difficile essere donna però credo che in questa epoca, nell'epoca contemporanea, si richieda tanto all'uomo. Si richieda che sia un ottimo padre, un compagno premuroso, un grandissimo lavoratore, uno che porta tanti soldi a casa e questa pressione alla fine non è sempre facile da sostenere e, insomma, in qualche modo, Era Ora prova anche a raccontare questo. È vero, è vero. Confermo la sensazione guardando il film. Poi, una domanda un pochino più di cazzeggio, diciamo. Il tuo film parla di tempo, ok? Di tempo che, in un certo senso, viene perso. Per un creativo, il tempo è amico o nemico? E quando sei in fase creativa, hai dei modi di perdere tempo che poi, insomma, ti fanno sentire un po' meno in colpa? Sei indulgente con te quando perdi tempo? Allora, da sceneggiatore, perché prima di fare i film li scrivo insieme a uno o altri sceneggiatori e quindi comunque da sceneggiatore c'è una grande corsa contro il tempo nel senso che credo che inizialmente almeno quello che faccio io è che mi metto in una condizione iniziale in cui perdo tantissimo tempo, mi deconcentro, bevo birra, bevo birra, bevo birra, come dire? Bevi birra, ottimo, ottimo. No, vabbè, perché magari la consegna è fra tre mesi e allora dico va bene, così, anche perché prima di cominciare a scrivere, poi penso non mi vengono le idee, aspetta, vedi, ho sbagliato il mestiere, non mi verrà mai, perché poi ogni film che fai uno pensa che alla fine hai imparato, non impari mai, è sempre un'opera prima, ogni film, ogni film che scrivi sei sempre sotto la montagna e la guardi dal basso e dici non ci arriverò mai lassù, ogni volta è sempre così, quindi ogni volta penso non ce la farò, è difficilissimo, mi sono imparagato questo progetto, è complicatissimo così, nel frattempo comincio a ragionare, chiacchierare sul film, insomma ci vado un po' attorno, cerco di capire anche perché ho scelto di fare quel film che non lo capisco mai, probabilmente, lo capisco, no lo capisco poi dopo che l'ho visto in realtà, quindi insomma è tutto un periodo di chiacchiere che un po' mi servono veramente a perdere tempo e un po' mi servono per cominciare a avvicinarmi a quel progetto, mi servono a perdere tempo perché a un certo punto sento che invece c'ho il pepe al sedere che sta avvicinando e quello è fondamentale, le scadezze sono fondamentali perché le scadezze sono creative, la libertà assoluta è un grande ostacolo alla creatività secondo me, invece sapere che a un certo punto ci devi arrivare, quello improvvisamente ti porta al fatto che ti concentri molto di più nell'ultimo periodo e dalla persona che ha pensato fino a due giorni prima no, basta, mi apro una gelateria ho sbagliato tu così improvvisamente dico no, no, aspetta, aspetta che qua c'è qualcosa di interessante. Comunque, come diceva qualcuno, io non amo scrivere, amo aver scritto perché il momento in cui scrivi sei veramente il peggiore nemico di te stesso. Quando finisci di scrivere hai scritto e lasci, quello è il momento più bello in assoluto e lì ti apre un'altra birra giustamente. Esatto, per festeggiare, per complimentarti. Senti, l'ultima domanda poi ti lascio libero tra l'altro vedo le locandine alle tue spalle tu hai già fatto tre film che sono usciti al cinema questo film invece esce su Netflix e questo podcast parlo di streaming quindi io mi chiedevo c'è una differenza di aspettative perché sai quando il film esce al cinema sai esattamente in quante sale esce quindi più o meno ti puoi fare un'idea qui invece ti butti in una piscina infinita. C'è un'aspettativa diversa oppure per te è un po' la stessa cosa? No, no, non è la stessa cosa. Giochi, campionati diversi perché comunque un film che viene distribuito da Netflix è un film che viene doppiato e sottotitolato in tantissime lingue ieri è uscito il trailer in portoghese per il mercato sudamericano brasiliano mi fa molto ridere pensare che questo film è rimasto Galadriel è tipo Galadriel Galadriel e cose così fa molto ridere e è che verrà doppiato questo in giapponese è già doppiato in tedesco in inglese in francese cioè comunque è il fatto che i miei amici sparsi nel mondo mi dicano che lo stanno vedendo stanno vedendo il trailer lo spettano l'hanno prenotato su Netflix per ricordarlo questa è una cosa estremamente divertente che ovviamente con il cinema non succede nel senso che magari hai le possibilità di andare in dei festival in delle rassegne però lì entri nelle case di tutti come direbbero e questa è una cosa che senza dubbio è è un'occasione e dall'altro canto ovviamente romanticamente il cinema per me rimane sempre la chiesa per un fedele casa e chiesa puoi pregare a casa ma comunque in chiesa è tutta un'altra cosa e quindi comunque la sala la sala è estremamente importante devo dire che io ma da tempo lontano prima ancora che il boom di streaming dico sempre che comunque c'è una differenza tra film e cinema cioè c'erano tantissimi film e il mio è un film e poi c'è il cinema se vedi Babylon Babylon lo devi vedere al cinema non esiste che tu lo vedi a casa se tu fai era ora e lo dico perché è il mio e quindi lo posso dire poi tranquillamente vediamo a casa perché è giusto e perché è un film anche piccolo è un film anche a dimensione umana e va benissimo a casa e non ci sono assolutamente problemi quindi viva il cinema per i film che vanno visti al cinema assolutamente e il streaming comunque rimane un grande anche una grande possibilità per vedere film che altrimenti non vedresti mai cioè io comunque sono della generazione che ha visto molti dei film che mi hanno formato in televisione io non ho visto c'era una volta in America il cinema io l'ho sempre soltanto visto in televisione e questo non significa che non sia diventato uno dei miei film della vita quindi non conviene neanche demonizzare tanto la televisione anche perché insomma le piattaforme ti permettono ovunque nel mondo di poter vedere tante cose e quindi benvengano anche le piattaforme benvengano allora Alessandro io ti ringrazio tantissimo insomma per noi iniziare questo podcast con un ospite avevo un significato particolare e complimenti ancora per il film sai che io posso essere cattivo invece mi è piaciuto veramente lo so lo so lo posso dire non essere cattivo invece l'ho trovato un film molto molto onesto molto sincero poi lo sai l'ho visto con mio figlio ti sei pure un po' commosso diciamolo sì 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 lui si è ci siamo emozionati tutti e due un film che tocca tante corde e molto umane quindi bravo complimenti dal giovedì 16 marzo assolutamente 16 marzo tutti su Netflix grazie grazie ragazzi grazie buona giornata e adesso che birra abbiniamo a questo film eccola qua la birra che ho deciso di abbinare a questo film e che vi consiglio di bere durante o dopo la visione di questo film è la 1984 del birrificio Bellazzi il birrificio Bellazzi è un birrificio di San Lazzaro di Savena provincia di Bologna e questa birra è una scotch ale quindi una birra di stampo anglosassone che i ragazzi di San Lazzaro hanno invecchiato un anno in una botta di whisky quindi è una birra che racconta una storia di un tempo che è passato lento che ha trasformato le cose e ha trasformato la birra stessa facendola diventare qualcosa di nuovo di diverso quindi un po' come in era ora il tempo passa e vediamo che cosa succede dopo dalla versione di Barley è tutto buona visione buona bevuta e non fermatevi alla prima